Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questo approfondimento, approfondimento politico, sapete come è andata la tornata elettorale, ci avviamo verso il ballottaggio e insomma questa sera nei nostri studi ospitiamo uno dei protagonisti di questo ballottaggio. Massimo Seri, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie per essere di nuovo qui insieme a noi. Allora, insomma, dopo chiederle insomma come sta vivendo queste prime giornate post voto, insomma. Beh, confesso che reputo il risultato un grande risultato perché i voti sono stati veramente tanti e penso anche che alcuni se lo aspettavano. Anch'io pensavo in un risultato importante perché respiravo un'aria positiva nella città, tante persone che manifestavano affetto, attenzione, fiducia, però francamente non pensavo un risultato così alto. E questo mi ha gratificato, mi ha incoraggiato e quindi l'ho vissuta con piacere, diciamo, perché in qualche modo ha ripagato anche il lavoro di questi anni. Ecco, immagino che nei confronti dei suoi elettori, di chi l'ha premiata nel segreto dell'urna, insomma, voglia comunque esprimere un ringraziamento per loro. Sì, un sincero ringraziamento è la prima cosa che ho pensato e anche attraverso i social ho espresso. Un sincero ringraziamento per la fiducia riposta che ci dà anche un senso di responsabilità, perché uno si sente il peso quando ha un'attenzione e una fiducia così importante. Ma l'aspetto che mi ha colpito e mi ha fatto piacere, perché in fondo io mi sono caratterizzato in questo modo di agire, quello di essere il sindaco delle persone che parla, che dialoga con tutti. Il risultato straordinario, diciamolo, è stato che tante persone che di solito votano dall'altra parte, alle comunali e alle amministrative abbiano deciso di votare me e di non scegliere la candidata del loro schieramento. È vero che a livello comunale si guarda molto la persona, il suo modo di fare, il suo modo di agire. I risultati, nel mio caso specifico, ottenuti. Quindi anche questo è stato per me un elemento di grande soddisfazione, perché il 14% dei fanesi che di solito votavano dall'altra parte, alle comunali hanno scelto Massimo Seri. E questo è un bel segnale, un segnale forte, che ovviamente gratifica anche chi riceve questa attenzione. Con le percentuali che sono uscite dalle urne e i bilanciamenti che si sono creati nelle varie formazioni, volendo fare un'analisi del voto, del risultato elettorale di questa amministrativa, rispetto un po' anche al 2014, che analisi si è fatta, che considerazioni le vengono in mente? È stato premiato un lavoro e si riconosce ad una persona l'autorevolezza nello svolgere il ruolo di sindaco. Però se analizziamo bene il voto c'è un elemento, perché dico la verità, a un certo punto speravo anche di raggiungere subito il 50%, quando ci si avvicina è normale. avremmo risparmiato una fatica in più ai fanesi col dover tornare a votare fra due domeniche. Ma io penso che il vero elemento che non mi ha fatto vincere al primo turno è stato il buon risultato a Fano del Movimento 5 Stelle. Loro si sentono delusi, ma in realtà se guardiamo anche il risultato nelle città vicine, dove la partita si è chiusa al primo turno e dove il Movimento 5 Stelle non ha raggiunto il 10% e si è attestato su quella percentuale. In realtà sarebbe stata la stessa cosa anche a Fano, ma a Fano c'era una candidata di tutto rispetto che io stimo e devo dire che ho anche apprezzato il modo di porre il confronto nella campagna elettorale perché è stato un confronto sui contenuti, non sulla rissa, nel rispetto reciproco e nell'amore e nell'interesse della città. E questo modo di fare è stato riconosciuto, tant'è che Marta Ruggeri ha ottenuto un 17% che, ripeto, è un bel risultato a livello comunale. Sono quei 6-7 punti in più che sono venuti meno agli altri candidati. Io penso che una buona metà di quei voti sarebbero venuti sicuramente a me e che mi avrebbe consentito di raggiungere subito il 50%. Perché in fondo lì, tra me e il Movimento 5 Stelle, tra me e Marta Ruggeri, c'era un progetto di città e questo si respirava, si capiva che c'era un programma, un lavoro importante a monte, cosa che in realtà non si è respirata in altri confronti con altri candidati. Penso che questo sia un elemento importante. Poi, ovviamente, l'altro elemento significativo è questo 14% in più che è arrivato a me come candidato, che reputa un grande risultato anche sul piano personale. Significa che hanno veramente riconosciuto Massimo Seri come un sindaco di tutti, come un sindaco delle persone, un sindaco che guarda la sostanza, guarda l'interesse della città, guarda i progetti, i risultati, a prescindere dalle appartenenze, a prescindere dai colori di appartenenza. A questo risultato, immaginiamo che lei sia arrivato, avrà fatto anche un'analisi di questo, attraverso l'azione politica che ha svolto e anche la sfida che ha lanciato per il futuro. C'è tutta una serie di considerazioni tra passato e futuro che immagino lei abbia fatto. Sì, io penso che i cittadini abbiano apprezzato veramente un risultato straordinario. Io l'ho ripetuto tutte le volte perché penso che sia quello l'elemento che mi ha distinto da tanti altri. Ed essere riuscito a far uscire Fano dall'isolamento, ed essere riuscito di accogliere tutte le opportunità che si presentavano, tant'è che noi abbiamo in cinque anni portato 142 milioni di investimenti. Ripeto, 142 milioni di investimenti, sono qualcosa di straordinario che non si è mai verificato nella città di Fano. E qualcuno ha fatto dell'ilarità dicendo ma in realtà quello che dice il sindaco non è vero perché con il bilancio comunale sono passati solo 33 milioni. E complimento più grande non potevano Fano perché la bravura è stata proprio questa, che quelle risorse non vengono dai bilanci dalle casse comunali, sono risorse che sono arrivate dall'Europa, oltre 7 milioni, dalla regione, dal governo, dal CONI, da Ferrovie dello Stato. Quindi abbiamo colto tutte le opportunità, abbiamo avuto la capacità di fare progetti e di farceli riconoscere. L'altro grande merito che la gente mi ha riconosciuto è stato quello di aver sbloccato tanti di quei problemi di cui Fano parlava da oltre 20 anni, che ogni amministrazione si portava dietro e lasciava il testimone a quella successiva. Bene, io tranne una, perché poi bisogna essere anche onesti, l'area ex zuccherificio, ma non dimentichiamo che quella è un'area privata dove l'amministrazione può poco se non quella di orientare delle previsioni urbanistiche. Per il resto abbiamo sbloccato tutte quelle questioni che erano bloccate da tantissimi anni. Penso alle scogliere, penso all'amianto, penso alla piscina, penso alle nuove scuole, penso all'impiantistica sportiva, penso all'Ido, agli allagamenti dell'Ido e potrei continuare, penso alla caserma dei vigili del fuoco. Tutte questioni che erano lì ferme, che nessuno riusciva a risolvere. Io in questi cinque anni ho dimostrato di aver avuto il coraggio di affrontarle, di aver trovato delle soluzioni, di averne già risolte alcune, alcune sono in cantiere, altre sono in itinere. Quindi anche questo penso sia stato un elemento fortemente riconosciuto a questo sindaco. E poi quello di aver fatto tantissimi interventi, di aver reso la città più bella, di averla resa più vivibile. È chiaro che in un processo di trasformazione hanno apprezzato anche la visione del futuro, le progettualità per una Fano ancora più bella, che noi immaginiamo, con dei progetti su cui ci vogliamo caratterizzare, a cominciare dall'realizzazione di un nuovo pala sport, di cui Fano ha bisogno, della riqualificazione del lungomare. Quando dico lungomare non parlo solo di Lido e Sassoni, ma parlo anche di Torrette e Ponte Sasso. Quindi questi saranno i due elementi di caratterizzazione rispetto ai cinque anni precedenti, proseguendo poi tutte quelle attività e quei lavori iniziati, come le attività e le riqualificazioni dei quartieri. Bene, questo è quello che è avvenuto fino ad oggi. Qualcuno però per il ballottaggio ha detto 0-0 palla al centro. Insomma, quindi adesso immagino che voi stiate ragionando su questa cosa e c'è una strategia, avete pensato di elaborare un percorso da qui alla domenica prossima? Beh, intanto non è mai 0-0, perché c'è una partita, c'è già un risultato che è emerso, c'è un'indicazione dei cittadini chiara. Questa non si può far finta di non vederla. Io capisco che chi l'ha subita cerca con il sorriso nervoso magari di decantare i risultati, ma il risultato del primo turno è chiarissimo, dà un'indicazione precisa che è quella di Massimo Seri, sindaco per altri cinque anni. Poi è vero, tutto si può rimettere in discussione, bisogna capire quante persone vanno a votare, quindi la vera sfida non è tanto per chi dover scegliere e far tornare le persone a votare al secondo turno, perché alcuni non lo sanno, non ci fanno caso, non hanno voglia, perché non è che c'è un cambiamento repentino, tranne in casi eccezionali. Ma in questo caso c'è stata proprio una manifestazione chiara, quando il 14% decide di spostarsi da un candidato all'altro, c'è un'indicazione precisa. Poi io dico la verità, non è che faccio strategie particolari, io sono me stesso. Alla fine io voglio che i fanesi mi scelgano perché sono Massimo Seri, per le mie caratteristiche, anche per le mie debolezze, per gli errori che ho fatto, per le mie strategie, per il mio modo di fare. Perché fare una strategia significa trovare anche degli escamotage per raccontare storie anche diverse. Io non devo raccontare niente. In questi cinque anni ho dimostrato cosa sono, ho dimostrato un grande impegno, una grande passione per la mia città, ho dimostrato di essere competente e di essere anche professionale nel ruolo che ho svolto, ho dimostrato di portare tanti risultati, ma ho dimostrato di essere anche un sindaco umano che sa rispettare, con educazione sa essere anche determinato, ho avuto all'inizio un po' di titubanza, come tutte le persone umane, quando c'è un nuovo incarico uno deve entrare e comprendere fino in fondo. Ma poi nei momenti difficili, come quello della sanità, lo voglio riaffermare anche oggi, come quello della sanità, al di là delle chiacchiere che gli altri fanno, io ho dimostrato nei momenti difficili fermezza e ho fatto le mie battaglie, cose che in passato non ci sono mai state. Tutti quelli che oggi rivendicano una posizione sulla sanità sono quelli che negli anni precedenti al mio arrivo è vero, le scelte le ha fatte la Regione, ma i pareri espressi erano tutti favorevoli. Oggi fanno i paladini, l'unico che ha fatto veramente il paladino, ed è tutto testimoniato, registrato, sia con i video, con gli atti, sono stato io con la mia battaglia per Chiaruccia, peccato che proprio quelli che oggi gridano allo scandalo, che magari facevano i sindaci in altri comuni, invece di essere al mio fianco, si sono girati dall'altra parte. Ecco, anche questo la gente sembra che non se ne accorga, che in realtà è attenta, le cose le conosce e agli slogan e alla demagogia sa rispondere, l'ha dimostrato con il voto. Quindi il mio, anche in questi giorni, continuerò a raccontare la città, a raccontare i miei progetti per il futuro, perché la proiezione è quella del futuro, senza demagogia, senza slogan, soprattutto senza bugie. Ecco, progetti per il futuro, affrontiamo anche questo argomento, anche se a grandi linee li abbiamo respirati nella campagna elettorale, quelli che sono stati i suoi messaggi e le sue intenzioni, ma c'è una Fano ideale, una città ideale che le piacerebbe vedere realizzata per i prossimi anni? Intanto è una città che continua a crescere, perché in questi anni Fano è cresciuta, sta cambiando, si sta trasformando, e lo vediamo sotto gli occhi di tutti, lo vediamo nelle opere di riqualificazione, nei risultati ottenuti, nei servizi che stanno crescendo. Adesso lo ripeterò spesso, però lasciatemi dire, basta guardare il nuovo Pincio, il biglietto da visita della città, che dà un segnale forte, ma io ho anche aggiunto che quello è solo l'inizio di un percorso che sarà accompagnato da altri interventi. Ma io penso anche a una città che sia sempre più consapevole delle proprie potenzialità, delle proprie capacità, una città che continui a diventare, come dicevo, sempre più bella, migliorata nei suoi servizi, ma una città sostenibile e moderna, una città europea. Ecco, questo è un altro elemento su cui ho lavorato in questi anni, attraverso anche dei ruoli che ho svolto, anche in organizzazioni europee, che diventi sempre più anche nella regione Marchi, un modello. E secondo me, con altri anni di questo tipo di attività, riusciremo ad arrivarci. E poi, una città accogliente, che abbia la capacità di sentirsi comunità e di abbracciarsi. E dove non si lascia indietro nessuno. Quelli che rischiano di rimanere un passo indietro, simbolicamente, li si prende per mano e gli si aiuta, gli si accompagna per uscire dalle fragilità, dal rischio di emarginazione. Perché, guardate, anche in una città come la nostra questi pericoli ci sono. E chi fa il sindaco lo comprende, lo sa. E sotto questo aspetto, da parte mia, c'è una forte sensibilità. Quindi, io sono ambizioso quando penso alla mia Fano, perché ha delle grandi potenzialità, ha grandi risorse, ha intelligenze e competenze. E un sindaco, su questo, deve essere bravo a non essere settario. a farle emergere, a liberarle, nell'interesse di tutti, quello che ho fatto in questi cinque anni, ma sono sicuro che riuscirò a farlo anche nei prossimi cinque. Ecco, c'è un messaggio, c'è un appello, una considerazione che vuole rivolgere la città di Fano, i fanesi, proprio in virtù di queste due settimane intense, che, vabbè, una è quasi andata, però insomma, ce ne abbiamo un'altra che sarà sicuramente una settimana impegnativa. Beh, ai fanesi mi sento di dire questo, intanto, in questi cinque anni ho dimostrato un impegno totale, direi, veramente, non mi sono, non mi sono sacrificato. Oggi, mi sento a metà strada di un percorso, e quindi, quello che chiedo è di farmi continuare nei prossimi cinque anni per ultimare i miei progetti, per raggiungere gli obiettivi che in qualche modo ho già delineato e la gente ha compreso. Evitare che si ricominci tutto da capo, si perda del tempo e anzi, si rischi di perdere anche delle progettualità, dei percorsi che sono ben avviati. Consapevole che questa cosa è stata compresa dai cittadini, perché domenica scorsa il 47,5% di persone hanno dato un'indicazione precisa, per cui l'appello che mi sento di fare a tutti i fanesi è di tornare domenica 9 a votare, a riconfermare la fiducia in massimo seri per consentirli di ultimare il lavoro nell'interesse della città per una città bella che ha tante caratteristiche positive, tante potenzialità che può emergere come sta facendo in questo periodo. Quindi, nel ringraziare ancora per la fiducia che mi è stata risposta, vi chiedo un ulteriore sacrificio a tutti coloro che mi hanno dato fiducia di ritornare domenica 9 per riconfermarla e così dal giorno dopo essere di nuovo operativo e lavorare per l'interesse della nostra città. Con un messaggio che io veramente sono il sindaco delle persone, mi sento sindaco di tutti, non di una parte o dell'altra perché chi rappresenta una comunità deve avere questa caratteristica ma i fanisi questa cosa l'hanno compresa bene e chi svolge questo ruolo deve avere un'altra caratteristica quella di essere capace di rispettare oltre alla competenza e la progettualità che deve avere ma di rispettare gli altri e una grande umanità. Questo è un patrimonio straordinario che non tutti hanno io penso di avere questa capacità per cui sono pronto per la prossima sfida e per continuare a far crescere Fano. Bene allora questo era il pensiero di Massimo Seri che vi ripeto è in lizza per il ballottaggio nel mese di giugno quindi fra poco più di una settimana saremo pronti per questo nuovo una nuova chiamata alle urne per definire il sindaco di Fano. Grazie Massimo Seri e arrivederci anche a tutti voi per quanto riguardano i prossimi appuntamenti. Arrivederci. Grazie e buonasera a tutti di nuovo. a tutti i prossimi appuntamenti. a tutti i prossimi appuntamenti. a tutti i prossimi appuntamenti. a tutti i prossimi appuntamenti.